C'è un problema pizzarro alla Roma? Se lo volete il problema pizzarro, cercate sempre la polemica. Io sono già uno di quelli di Claudio. Se voi avete il gusto di alimentare le polemiche, non c'è polemica. Voi eravate molto bravi quando facevate l'analisi critica della partita. Adesso mi sembra che voi state un pochettino scadendo. E' un consiglio che vi do ad amici. Voi volete sempre la polemica. Claudio, se volevamo fare la polemica, avremmo iniziato facendoti vedere il gol in fuorigioco della Roma. Secondo me tutto sta nascendo da un misunderstanding. Piano piano a Roma non vi vedrà più nessuno. Piano piano a Roma non vi vedrà più nessuno. Ranieri, però non scadiamo in queste cose. Uno non fa una trasmissione per essere graditi ai diposi, perché arrivati fa Roma Channel, Milan Channel e Inter Channel. Io vi dico, gli umori della città. Claudio, guardami un attimo in faccia. Io rivendico totalmente il mio diritto di fare polemica. Mi dispiace, è passato il tempo. Vi saluto. Io rivendico totalmente il mio diritto di fare polemica. Per chiudere, è passato il tempo. Lo ridò. Criticate e fate polemica. Arrivederci, signori. Ma la cosa, aspetti Ranieri, perché la sto salutando. Niente, se ne va.